Sono stati ultimati i lavori per l'allaccio delle fognature del porto turistico d'Imperia in zona San Lazzar e quelli per la realizzazione della nuova strada di accesso nella stessa zona. L'allaccio alle fognature effettuato dall'AMAT è fondamentale per ottenere l'omologazione definitiva delle strutture del molo dove si trovano fra l'altro gli uffici di direzione del porto e le sedi dei corpi dello Stato. La nuova strada di accesso consentirà invece di entrare e uscire dallo scalo turistico senza dover più transitare nell'area destinata ai cantieri navali, rispettando così le norme in materia di sicurezza. La nuova strada, che anche se provvisoria servirà in futuro per disegnare l'accesso definitivo al bacino, dovrebbe essere aperta al traffico nell'arco di una settimana, trascorso il tempo tecnico necessario per la verifica del calciastruzzo. La viabilità è stata anche dotata di apposita illuminazione e segnaletica. Il sindaco Claudio Scaiola, fra i suoi primi appuntamenti, ha voluto incontrare l'amministratore di Goimperia Roberto Balbo al quale ha chiesto di operare celermente per la soluzione delle problematiche relative al porto turistico. Scaiola ha infatti ribadito che è necessario far ripartire quanto prima lo scalo per il bene dell'economia imperiese.